Il decreto è firmato e ora gli italiani dovranno seguire le regole, anche se, salvo caso di controlli a campione, il rispetto di queste norme è legato più che altro al buonsenso dei cittadini. Parliamo del provvedimento firmato dal Ministro della Transizione Ecologica Cingolani, che impone restrizioni all'uso dei riscaldamenti in vista dei mesi più freddi in arrivo. Il periodo di funzionamento si riduce per tutti di 15 giorni. Vuol dire che gli impianti verranno accesi 8 giorni dopo rispetto a quanto avveniva finora e in primavera, spenti una settimana prima. Le date ovviamente non sono le stesse in tutto il paese. Il calendario è suddiviso in sei diverse zone climatiche. Ecco alcuni esempi. Nella zona E, che include Milano, Torino e Bologna, anziché il 15 ottobre i termosifoni si accenderanno il 22. A Roma e Firenze, in zona D, bisognerà aspettare fino all'8 novembre. Gli ultimi, in ordine cronologico, saranno i residenti delle zone A e B, quindi chi abita nelle isole e nelle aree costiere meridionali, che dovranno temporeggiare fino all'immacolata. Inoltre, gli impianti dovranno rimanere in funzione un'ora in meno al giorno e anche la temperatura di massima dovrà diminuire. Per le attività industriali e artigianali, non oltre i 17 gradi, con una tolleranza di 2 gradi. Per gli appartamenti, non più di 19 gradi, con la stessa tolleranza. Esentati dalle nuove regole ospedali, case di cura e asili, secondo le stime dell'Enea, in questo modo l'Italia risparmierà 2,7 miliardi di metri cubi di gas.